4.500 cittadini, 104 comuni coinvolti in un'indagine sui servizi effettuati da Sei Toscana. L'indagine si è concentrata principalmente sulla valutazione dei servizi di spazzamento, di raccolta cassonetto stradale, domiciliare e con attrezzature ad accesso controllato. Dai risultati delle indagini che presentano una omogenità rispetto a tutto il territorio della Toscana meridionale, emerge un miglioramento di tutti gli indici rispetto all'indagine precedente. Emergono risultati sostanzialmente positivi. Intanto l'estensione del campione è importante e diffusa non solo sulla provincia di Arezzo ma anche sugli altri territori serviti da Sei Toscana che come è noto copre un'area molto vasta dell'intera Toscana meridionale. Noi tutti gli indicatori che sono stati utilizzati per monitorare il grado di soddisfazione del cliente registrano un miglioramento rispetto all'ultima campagna che è stata svolta nel 2017. Le due macro aree monitorate sono quelli dei servizi domiciliari, quindi il porta a porta e quello della raccolta stradale. Un focus anche sui cassonetti intelligenti. L'installazione dei cassonetti intelligenti è stato un modo per dare uno strumento pratico alle persone per poter dare un contributo all'aumento delle raccolte differenziate. È un obbligo di legge, un modo per non pagare l'ecotassa, quindi un modo per ridurre realmente le tariffe ai cittadini, ma per farlo in un modo che crei meno disagio possibile alle persone, per cui la gente può conferire i rifiuti quando vuole senza dover stare dietro a calondari così stretti come sono quelli per il porta a porta e anche però risparmiando un sacco di soldi.